Le immagini riprese dal drone raccontano bene che cosa è il parco fotovoltaico di Cavriglia-Tegolaia. 43 ettari di terreno a pannelli fotovoltaici, siamo a Cavriglia, nel Valdarno Aretino. 70.000 pannelli costituiscono il più grande parco fotovoltaico della nostra regione. L'impianto verrà gestito da Estraclima, società del gruppo Extra, a capitale pubblico. Ci fa piacere anche perché è una testimonianza di buon governo questo impianto, perché qui siamo in un'ex miniera di lignite che aveva nel tempo, negli anni, depauperato e rovinato il nostro territorio, poi si è trasformato addirittura in una discarica e grazie a questo intervento di alcuni anni fa si è recuperato e restituito ai cittadini questo pezzo di natura così importante. Quest'impianto produce 17.000 kilowatt in grado di fornire energia elettrica a 20.000 abitazioni. Extra ha acquistato il parco da due società, da qui il nome Cavriglia e Tegolaia. È un patrimonio per la Toscana e è un patrimonio per l'ambiente, perché oltre a rendere un servizio agli abitanti del luogo, rende un servizio anche all'ambiente. L'energia pulita prodotta da questo impianto ha messo fine all'emissione in atmosfera di 9.000 tonnellate all'anno di anidride carbonica, con un risparmio di 3.500 tonnellate equivalenti di petrolio.